salve a tutti siete sul canale pratiche sartoriali alla moda vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana andiamo avanti con le lezioni di modellistica oggi parleremo di nuovo di maniche combinate e che ormai abbiamo iniziato questo argomento un po più complesso e poco alla volta arriveremo alle costruzioni sempre più difficili abbiamo già fatto una manica combinata ma ne faremo ancora tante altre di maniche e di giro maniche interessanti comprese appunto le maniche combinate una l'abbiamo già costruita e oggi faremo questa qui davanti la manica è quella classica mentre dietro diventa una manica raglan la difficoltà in questo caso sta nel fatto che le nostre cuciture quelle del fianco e quella interna della manica non combaciano quindi qualsiasi manica complicata avessimo di sopra in basso dovremo cucirla come facciamo abitualmente con la manica normale dovremo lasciarla posizionarsi come vuole e non forzarla in alcun modo senza cercare di combaciare tra di loro i pezzi del davanti né quelli del dietro altrimenti ci ritroveremo dei difetti da una parte troppo tirato da un'altra troppo volume cominciamo a modellare il davanti rimane così com'è non abbiamo da fare niente lavoreremo con il dietro e basta abbiamo il giro manica e la manica li prepariamo come per fare la manica raglan lo abbiamo già fatto un sacco di volti 10 12 mm dalla piega e 7 8 9 cm in giù non importa e ritagliamo con una linea curva ecco come si presenta la nostra manica il pezzo del davanti è pronto e possiamo metterlo via insieme al davanti andiamo avanti invece con il raglan dietro vi ho già spiegato che qualsiasi linea del raglan potrebbe andar bene e potete disegnare quella che volete qualsiasi linea facessimo sarebbe giusta non facciamola troppo dritta ma bella ed è armoniosa poi ritagliamo e chiudiamo la pence dobbiamo attaccarci la manica dietro penso che non sarà nemmeno necessario guardare tutte le lezioni quando avrete capito il principio della modellistica e con un po di fantasia sarete in grado di costruire da soli anche la manica più contorta attacchiamo il carré che abbiamo ottenuto con la manica la nostra manica potrebbe essere così oppure anche intera con il davanti ad avere questa pence possiamo anche non dividere il davanti e il dietro intanto ricopio il pezzo su un foglio pulito quando arriviamo a questi angoli bisogna arrotondarli e farli belli anche qui dove c'era la pence vedete questi angoli bisogna evitarli andare con linea bella morbida anche qui dove c'è la pence evitate a fare angoli andate con linea morbida molto spesso questa manica viene usata nei capi spalla quando dietro vogliamo più libertà di movimento e non vogliamo la cucitura del gelomanica allora un raglan dietro è un'ottima soluzione smuso tutte le punte a rotondo dove serve butto la prima manica che l'ho copiata per bene qui questo non serve più butto via mi tengo questo che è appena ricopiato ci sono delle maniche ancora più complicate come la sappiamo ne abbiamo visto di maniche combinate che non avete idea ma poi ragazzi la con fantasia non ha confini la manica dietro la manica davanti potrebbe essere due pezzi oppure uno intero in ogni caso la manica va chiusa e solo dopo viene inserita nel giro manica e la sua cucitura e quella del fianco non devono combacciare perciò non cercate di metterle insieme per forza state attenti è un errore che fanno i molti possiamo anche lasciarla così con una pence ma sarà più complicato cucirla perciò vi consiglio di fare la cucitura sulla spalla la manica dietro è pronto la manica davanti è pronta pure le prossime lezioni saranno su maniche che passano in care o maniche intere con fianchietti nelle lezioni di modellistica competenti lavoreremo molto sodo e molto a lungo con la base per imparare a modificarla perfettamente in ogni capo che noi vogliamo se fate un abito in jersey perché fare una cucitura nel giro manica dietro non serve anzi da fastidio allora potete fare il raglanso dietro mentre davanti lasciate la cucitura per un look più elegante naturalmente potete fare il raglanso davanti ma le maniche combinate sono più insolite e originale da vedersi abbiamo imparato un altro taglio per diversificare e variegare il nostro guardaroba auguro a tutte di riuscire ad essere diverse e uniche ogni giorno della vostra vita iscrivetevi al nostro canale seguite le nostre lezioni e imparate con noi con voi sono stata io Paushtirina Michalovna e tutto il nostro team buona giornata a tutti